I finanziari del gruppo di Lamezia Terme, ormai da tanto impegnati nella prevenzione ed accertamento dei reati ed illeciti in materia ambientale, dopo una capillare attività di monitoraggio delle aree dell'Interland, interessate dalla presenza di insediamenti industriali, hanno individuato alcuni fabbricati adibiti ad upifici all'interno dei quali si svolgevano lavorazioni di falegnameria e verniciature di lamierati e componenti in metallo. Gli accertamenti, eseguiti con l'ausilio del personale tecnico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della regione Calabria, hanno permesso di appurare che tali attività venivano svolte senza alcuna autorizzazione e in ambienti non idonei, in quanto privi di impianti di aspirazione e filtrazione di fumi e polveri prodotte durante i processi di lavorazione. Inoltre, durante i controlli, i militari hanno rinvenuto, in alcune aree attive e fabbricate, un'enorme quantità di rifiuti speciali e pericolosi depositati in modo incontrollato sul nudo terreno. I rifiuti, miscelati tra loro e senza alcuna idonea protezione, erano esposti agli agenti atmosferici, con la conseguenza che il percolato, prodotto dall'inevitabile dilavamento degli stessi, è assorbito direttamente dal terreno, contaminando le matrici ambientali, suolo ed acqua e costituendo un potenziale pericolo per la salute pubblica. Al termine delle complesse verifiche, accertato un'illecita gestione di rifiuti da parte degli amministratori e dei responsabili delle aziende controllate, si è proceduto al sequestro dei due fabbricati e delle aree adibite a discariche abusive della superficie complessiva di oltre 30.000 m2. L'azione di servizio, svolta sotto la direzione del coordinamento della Procura della Repubblica di La Mezzia Terme, testimonia il costante impegno profuso dalla Guardia di Finanza nelle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale, a tutela della salute e sicurezza dei cittadini.